buongiorno marina buongiorno anche a chi guiderà oggi la parte tecnica ben trovati ad alessandro labriola ea piero caffio che questa mattina ci hanno già deliziato con un pezzo strepitoso che killing me softly nella sua versione originale prima della che diventasse tornasse essere famosa con quella dei fuggis ma stupendo io ero ragazzino grazie piero grazie alessandro bene allora sono le 7 21 noi oggi abbiamo una puntata particolarmente ricca sì ieri abbiamo parlato di giovani in fuga e si sulla base insomma dei dati forniti dalla cgl che aveva detto che dal 2002 al 2023 70 mila giovani pugliesi per la maggior parte laureati erano andati via dalla puglia oggi vogliamo insomma raccontare invece un'altra storia quella di chi resta o meglio ancora di chi è andato ma ha deciso di tornare con un bagaglio di esperienze importante e parleremo inizialmente di un progetto sempre della cgl che si chiama back to town e lo faremo con pasquale d'arcangelo giovani d'arcangelo scusate del segretario generale della cgl di taranto ma avremo anche un importante ospite in studio e sì infatti lui è nicola san marco dinastia anime show studios e lui è proprio uno di quei ragazzi di quelle eccellenze internazionali perché lavora per disney per marvel insomma tanta roba è infatti e quindi sarà qui con noi ci racconterà la sua scelta di tornare a taranto e di aprire anche un'attività un'impresa che sicuramente è insolita rispetto a quello a cui siamo abituati quindi ci spiegherà che cosa è nasse animation ma anche quali sono i suoi nuovi progetti e poi parleremo invece di crisi idrica ieri non ci siamo riusciti perché abbiamo avuto dei problemini tecnici ma oggi avremo con noi vito rubino direttore della cia 2 mari che ci racconterà quali sono stati i danni creati dalla siccità al settore dell'agricoltura in particolare e quali sono le soluzioni auspicate del dall'imprenditore del settore torneremo poi a palazzo di città insomma sono giorni intensi perché un giorno sì e l'altro no c'è un consiglio comunale in realtà questo un giorno sì anche l'altro anche perché mercoledì e giovedì a onor del vero va detto che un giorno sì e l'altro pure c'è pure una fumata nera esatto anche i grandi risultati 6 7 ore di incontro e di ragionamenti e poi alla fine non si conclude nulla o quasi al senso si crea la cabina di regia del comitato della commissione del gruppo va bene comunque quindi su comparto 32 che era l'argomento di cui si trattava ieri ve l'abbiamo raccontato tante volte lo approfondiamo dopo non andiamo a farlo adesso esatto non si è arrivati ad una risoluzione insomma in realtà insomma la posizione della maggioranza continua a essere quella di aspettare il consiglio di stato evidentemente in quest'ottica anche il consiglio monotematico di ieri non doveva apparire insomma politico di quella parte lì sortire è un effetto alcun effetto va bene e questo è un altro argomento poi ma poi parleremo ancora di vertenze di lavoro parleremo della iab di statte ci collegheremo con gli operai che sono ancora in presidio che sono ancora lì a occupare la fabbrica a difesa di un posto di lavoro che purtroppo stando insomma quanto traspare dagli incontri a roma non sembrano esserci notizie confortanti no purtroppo no cominciamo a pensare che forse questa iab se ne andrà veramente arriverà qualche altro soggetto chissà comunque insomma ieri l'incontro anche con i sindacati tra aziende sindacati ci faremo dire anche come come è andata insomma tanti argomenti anche oggi ed è tempo di leggere i nostri giornali le prime pagine dei quotidiani locali sì apriamo la nostra sala cinesca virtuale con l'edicola e guardiamo le prime pagine partendo come sempre dal Corriere del Mezzogiorno in apertura la piccola apertura commissione senza il presidente sul bilancio la regione va in bambola la politica emiliano nel frattempo offre una delega a mennea azione cassano pronto a candidarsi al consiglio che sta succedendo fondamentalmente siamo a un passo dalle regionali dalla chiusura della lista quindi c'è una specie di bot di rissa reale chiamiamola così per la ricordata la royal rainbow del wrestling c'è sta roba per cui tutti il wrestling conosce mi fai morire tu si sparagnano si sparagnano tutti di mazzate praticamente o di offerte cioè uno tira qualcuno dentro emiliano quella della destra cioè per cercare in qualche modo di consolidare la lista dei candidati siccome poi a Bari di mazzate ne hanno presi parecchi ultimamente tra arresti e roba varia sì abbiamo visto indagini e roba così quindi adesso c'è una specie di correre di gente che corre vabbè come sempre accade quando ci sono le elezioni a tutti i livelli ma quest'anno è diverso zia perché quest'anno c'è il rischio che ci siano dieci consiglieri meno capito 10 posti meno 10 stipendi meno occhio eh è vero occhio quindi qua è proprio uno sgomitare anche fratricida capito cioè si ammazzano per un po' mamma mia insomma e quindi ieri c'è stata questa roba addirittura emiliano ha fatto un'offerta a mennea di azione calenda per capirci che se capisce detto sì un po' no un po' sì insomma va bene al centro sistema asla colpi di varianti tangenti in cambio di appalti così dirigenti gonfiavano le gare per gli imprenditori sanità malata costi dei lavori cresciuti anche di 600 mila euro soldi delle mazzette nascosti nelle stampanti mamma mia 600 mila euro in più ma tutti rendi quando diceva totò che cosa sono 600 mila ma chi li ha viste mai perché lui pagava in scec ogni scec così vabbè c'è poi al centro una notizia su questo film che sta facendo molto discutere c'è l'intervista all'attore che interpreta il ragazzo dei pantaloni rosa questa storia forse la prima storia di bullismo che abbiamo avuto in italia o meglio di morti a causa di bullismo lo spieghiamo insomma questo ragazzo proprio a seguito del fatto che portava indosso questi pantaloni rosa tra l'altro per un grande scusate per un candeggio sbagliato della mamma erano rossi la mamma sbaglia il candeggio diventano rosa lui l'indossa di lì una serie di sfotto è tutto poi quello che ne è conseguito fino a che non ha deciso purtroppo di togliersi la vita questa storia è diventata un film e c'è questa intervista in cui lui racconta i messaggi che riceve a migliaia ricevo 4.000 messaggi al giorno claudia da brividi riferimento a claudia pandolfi che fa la madre del film che l'altro giorno anche parlando proprio di tanti messaggi che anche le riceve di persone che le dicono le vessazioni che subiscono i figli piangeva insomma disperata sui se avete non ho mai fatto un video del genere ma era angosciata insomma da questa storia una storia che sta facendo parlare tra l'altro ieri c'è mi sto allungando tra l'altro ieri il ministro val di tara ha ricevuto un gruppo di ragazzi che aveva fatto una sorta di contestazione sfotto proprio all'esterno di un cinema prima della proiezione che avrebbero dovuto fare di questo di questo film per per le scuole e li ha fatto tutto un discorso un po paterno dicendo ragazzi non si fa questo è un atto grave val di tana val di tana quello che ha sospeso il professore sì che ho perso mal di dare lo stesso solo che però il bullismo un'altra no 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 certo però dico che il buon esempio ci sta noi di lui insomma una riflessione è certo si fai bene a farla insomma comunque lui li ha ricevuti ha detto ragazzi miei non si fa così a questo punto loro hanno fatto un video contro il bullismo dicendo abbiamo sbagliato ma magari qualcosa l'hanno imparata chissà comunque val di tara li ha ricevuti per fargli rimbrotto va bene abbiamo cose da fare no 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 certo non glielo fa il preside glielo fa il ministro va bene va bene c'è un fatto di prossimità e le 7 e 29 noi ci fermiamo un attimo con i nostri giornali c'è un po di musica e quando torniamo ci sono tutte le altre prime pagine ben tornati su cittadella la radio e studio 100 questa è buongiorno taranto di buon mattino stiamo leggendo i giornali di oggi proseguiamo con la gazzetta del mezzogiorno apertura dedicata al nazionale e forse anche all'internazionale mattarella resiste la replica del presidente della repubblica elon musk l'italia sa badare a se stessa il riferimento è alle parole dette da scritte da musk su x in questi giudici se ne devono andare a proposito dei giudici che hanno in qualche modo bloccato il trasferimento di migranti in albania e quindi diciamo in qualche modo limitando i piani del governo ecco rispetto a questa nuova politica di deporta di scusa si può dire deportazione secondo me si può dire deportazione e in realtà però diciamo la riflessione che cominciamo già detti altre volte probabilmente la legge è scritta male perché in contrasto con le norme europee quindi bastava magari scriverla meglio farla diciamo in maniera meno frettolosa meno imbastita e forse chissà magari i giudici l'avrebbero applicata o forse avrebbero fatto anche ricorso alla corte costituzionale chi lo sa ma detto questo la gazzetta apre su le parole di mattarella che ha detto come ho già detto altre volte l'italia sa badare a se stessa e nessuna deve permettersi di dirci che cosa fare come si direbbe italiana italianizzandolo da nostre parti stati al posto tuo no ma poi la segue la cosa che mi fa più ridere di sta roba c'è che ccc raccontiamo da da un paio d'anni da quando nona da quando c'era il governo la destra che ci siamo un paese sovrano capito che già tra l'altro uno si riempie la bocca quando dice sovrano i sovranisti sta roba poi viene masch solo perché amico tuo e ti dice giudice ne devono andare a beh però maschio lo può fare ma ora masca sta insomma ricevendo anche un incarico importante all'interno del governo del presidente trump quindi insomma si sente forse anche maggiormente in in diritto di poter parlare però la minorina ha chiamato e ha detto senti grazie grazie che mi vuoi dare una mano però meglio che per il momento abbassa toni è chiaro benissimo andiamo invece nella parte bassa della gazzetta del mezzogiorno dove si parla della storia che arriva in che è arrivata insomma nei giorni scorsi da roma la giovane morta per una rinoplastica sono stati indagati due medici romani le 22 anni aveva trovato la clinica su tik tok dopo l'anestesia purtroppo si non è iniziato neanche l'intervento proprio l'anestesia che l'ha fatta morire ora ci sono due persone che rischiano ovviamente di andare dentro per tutto quello che è successo la morte di una ragazza andiamo avanti edicola del sud in puglia si vive più a lungo ma se i paesi scompaiono secondo l'osservatorio aforisma nel tacco d'italia l'età media cresce sfiora gli 83 anni la natalità però diminuisce lo spopolamento cancella 3.000 abitanti dai piccoli borghi andiamo invece a vedere velocemente la prima pagina di nuovo quotidiano di puglia che apre con la vertenza sulla grande vertenza sul lavoro leonardo il governo cambia niente scorporo solo rilancio giorgietti corregge la di cingolani occupazione tutelata oggi il vertice si parla anche di accedere d'italia siderurgico ambiente accedere rassicura nessun rischio sulla salute con le attività dell'ex silva e poi aerei la bufera social voli di vario col nord tariffe più costose per arrivare in puglia se ne sta parlando tantissimo anche di questo chi deve venire qui dalle insomma chi lavora fuori o chi studia fuori e deve tornare per le feste di natale ha non poche difficoltà economiche per questo e poi al centro della pagina il consiglio comunale ci siamo detti la fumata nera nel taglio basso invece c'è la cronaca minacce insulte alla ex dal carcere con i cellulari abusivi dei detenuti e poi salinella la svolta con i giochi maxi parcheggio da 800 posti il piano di ferrarese per jacovone e pala ricciardi e infine velocissimamente neonatologia ipotesi rinforzi dalla graduatoria di un concorso anche questo insomma un po' era venuto fuori negli scorsi giorni la prima pagina invece del taranto buonasera per chiudere la nostra panoramica sui giornali giochi 26 800 nuovi posti auto anche il quotidiano di diretto dal da enzo ferrari apre sui giochi del mediterraneo e invece nel taglio basso il giornale è dedicato a l'ordine degli avvocati un altro scossone non riesco a leggere bene il testo ma probabilmente credo che sia o le notizie sono due o l'addio di mirella casiello che si è dimessa diciamo dall'ordine dopo la questione che c'è stato o purtroppo una notizia ancora peggiore la morte di fausto soggia un grande avvocato un grande penalista un grande uomo soprattutto che a causa di un tumore purtroppo ieri si è spento tra il dolore di tanti colleghi amici e familiari chiudiamo così questa nostra rassegna stampa di oggi fra poco gli approfondimenti bentornati a buongiorno taranto di buon mattino cominciamo i nostri approfondimenti che abbiamo parlato ieri dei giovani in fuga oggi invece cerchiamo di raccontare un altro aspetto legato al fenomeno dei giovani se in particolare parliamo di un progetto che porta avanti la cgl di taranto e ne parliamo con giovani d'arcangelo che è proprio segretario di cgl taranto buongiorno ben trovato buongiorno buongiorno dunque un progetto per far rimanere o per far tornare i ragazzi a casa ovviamente con un'occupazione degna una qualità della vita si spera altrettanto degna come lo state strutturando raggiunto vi ringrazio della possibilità di poterlo raccontare qui con voi e i vostri telespettatori è un progetto che noi non facciamo diciamo non realizziamo da soli perché da soli non si va da nessuna parte lo realizziamo insieme ad altre cgl di altre città medio città medie come anche altri paesi dell'unione europea penso alla slovenia alla spagna la polonia e mettiamo insieme anche il mondo universitario nella fattispecie il politecnico di milano per quanto riguarda l'italia ma anche l'università di di altri paesi perché l'obiettivo è quello di all'interno del pilastro dei diritti sociali fare una ricerca su quella che la situazione oggi all'interno delle città sapendo che anche il modo di vivere le città attuali non sono più sostenibili quindi c'è tutto il tema che riguarda la realizzazione delle smart city cioè di queste città più sostenibili che hanno un maggior impatto di vivibilità urbana ecco noi attraverso questa attività di ricerca questa diciamo esplorazione che vogliamo fare cerchiamo di capire come le smart city possono diventare anche volano di nuova occupazione in particolar modo per i più giovani perché lo dicevamo ieri noi abbiamo qualcosa come 70 mila giovani under 39 che nel corso degli ultimi dieci anni sono andati via dalla puglia quindi l'obiettivo è quello che attraverso questa nuova leva legata ad appunto alle smart city si possano mantenere i più giovani qui ed evitare che possano andare via ecco il tema quali sono per esempio magari glielo chiedo velocemente perché poi andiamo in chiusura quali sono le figure che avete individuato per esempio che in qualche modo possono essere attrattive per i giovani e come magari formarli ma innanzitutto una cosa che sto scoprendo stiamo scoprendo con veramente gran piacere e che sul territorio ci sono diverse esperienze diverse start up innovative che non vengono raccontate che stanno nella logica della sostenibilità quindi nell'ambito della ricerca oggi per esempio con i ricercatori del Politecnico di milano incontreremo alcune realtà del territorio che non sono conosciute ma stanno dentro ambiti diciamo produttivi importanti le figure sono sicuramente quelle legate anche al sociale perché se io penso che all'interno di una città come quella di tanto ci sono tante diciamo disuguaglianze e povertà sociale all'interno dei quartieri quelle figure professionali che lavorano per accorciare le distanze è già una cosa importante lì si fa riferimento per l'appunto a un tipo di lavoro nuovo positivo che ripeto ha a che fare le figure legate ai servizi sociali ad esempio grazie per essere stato con noi a giovanni d'arcangelo per rappresentare il progetto back to town sperando appunto che i ragazzi possano tornare qui e darsi da fare noi fra poco continueremo a cambiare cambiare le città e non cambiare città ecco questo è diciamo il moto di questo punto un bello slogan grazie ancora buona giornata grazie a voi siete su buongiorno taranto di buon mattino radio cittadella e studio 100 insieme potete ascoltarci potete vederci e se ci vedete già noterete che insomma c'è una figura che ha legge accanto a me o quanto meno una parte della sua giacca ora lo vedremo per intero è lui e siamo molto contenti di averlo e nicola san marco disegnatore di fama internazionale che questa mattina abbiamo il piacere di avere il nostro ospite in studio ciao buongiorno e grazie per l'invito buongiorno ti vedo emozionato nicola beh sì sono mai stato incuffiato e la prima volta uno lavora per la disney fa cosa incredibile però emozionato perché la vita è così ci si emoziona per ora togliamoci un denaro togliamoci un denaro diciamo subito si lo faccio io nicola il mio cugino e altrimenti poi diciamo finisce sui social che ti chiamano fate finta di non conoscere marina ieri mi ha detto dobbiamo sentire un ragazzo che è tornato io ho detto io chiamo a mio cugino siamo in italia che ce l'ho capito che ce l'ho però è un caso particolare nel senso che nonostante sia cugino francesco in realtà poi vi sveliamo la verità di come imparato a disegnare ma questa è un'altra storia in realtà perché abbiamo nicola qui perché vi abbiamo raccontato ieri di giovani in fuga e oggi invece abbiamo cercato di dare voce all'altra l'altra faccia della medaglia abbiamo ascoltato giovanni d'arcangelo sul progetto back to town nico è uno di quelli che ha fatto il back to town un antelitter a me che pur potendo lavorare diciamo in diverse parti d'europa e del mondo ha scelto di tornare a lavorare a taranto tu qui oggi hai la tua nasi animation studios ma anche poi vedremo cos'altro è diventata è scelto di lavorare a taranto da taranto perché va bene utile dirlo che taranto è la mia città comunque sono nato qua e quindi ho una predisposizione naturale al voler stare qui e la verità è innegabile poi pensavo va bene la pandemia ci ha esposti un attimo a quello che il come dire la possibilità di lavorare in remoto la possibilità di lavorare da casa e farlo realmente in tutti i settori perché tutti hanno sperimentato lo smart working per noi era già comunque qualcosa di fattibile però le produzioni olivudiane hanno capito che è possibile farlo da casa quindi ho iniziato a lavorare per gli stati uniti da casa e con l'intento di tornare non sapendo che la pandemia durasse due anni e quindi sì sì fra sei mesi fra cinque mesi fra quattro mesi alla fine siamo rimasti a casa per sempre quindi ci hanno abituati a questo gli stati uniti hanno capito che hanno risparmiato tanti soldi negli studio se quindi meglio chiuderli o comunque meglio mettere in smart working molte più persone e di conseguenza si è trasformato il mondo ora questa agevolazione che mi ha portato vivere a taranto con uno stipendio di los angeles diciamo che non è stato proprio male e quindi il progetto c'era già dal 2017 di creare una società di animazione con un progetto in particolare e quindi ho approfittato di queste combinazioni di cose per definitivamente ora per ora stabilizzarmi allora tanti anni fa ti ho intervistato per tv 2000 e io ricordo che mi dicesti questa cosa mi sembrava bellissima io ho un grande sogno il mio sogno è aprire una casa di produzione a taranto ai tempi tu dicevi ai tempi lavoro per disney lavoravi per disney e diceva insomma non so se potrò poi effettivamente stabilmente rimanere qui e invece insomma si era si è realizzato tutto dopo diversi anni da una decina però ci sono riuscito perlomeno quello che vediamo ora è quel sogno in qualche maniera non è ancora quello che voglio io perché chiaramente io sono ambizioso e questo credo che sia un problema però diciamo che è una cosa bellissima ambire sempre a far meglio io credo che non sia solo una questione di ambizione credo che sia proprio una questione di sogno cioè l'ambizione sembra un po nell'immaginario collettivo avere a che fare con l'avidità capito invece no io credo che sia proprio una questione di sogno come diciamo svolgere il lavoro nella tua città perfetto perché chi non ha vissuto a los angeles occhi non ha vissuto fuori dall'italia ora l'europa compete quindi comunque madrid io sono madrid a batting spa in in inghilterra a parigi comunque le città competono con l'italia quindi comunque c'è una buona vivibilità soprattutto a madrid in particolare però los angeles l'america gli stati uniti non sono quello che pensiamo noi dei film o da la vita che vediamo nelle star il sogno americano youtuber che vedi sana los angeles ma in realtà è una vita molto strattonata e non positiva come vediamo realmente perché in realtà poi è la sanità e quelli pericoli trovare qualcuno che ti spara per strada non è proprio così irreale ok è la verità però al volo non sarebbe più stato per te diciamo automatico se non all'estero diciamo ecco milano che la milano che ma in realtà lavorando da casa perché non farlo a casa quindi perché devo stare una città dove alla fine il networking non è quello di los angeles quindi tanto vale stare a taranto chiaro che dice che mi interessa la terra della terra delle occasioni è vero anche questo c'è nel senso comunque quello che che mi manca in questo momento forse a taranto in particolare è un networking un po più specializzato nel nostro settore che magari a milano a roma troverei senza problemi però creiamo lo è quello che sto cercando siamo pronti per il network noi dicevamo inizio trasmissione che ovviamente tu ti sei buttato su un settore che è veramente di nicchia cioè non è deciso di rimanere cioè di ritornare a taranto ma di farlo con un'impresa che è un unicum immagino certo però anche questo interessante perché noi quando ho provato a fare questa cosa all'inizio mi hanno detto no ma perché farò a taranto non c'è niente non c'è soldi non c'è nulla in realtà io ho trovato tutto quello che mi serviva ho trovato uno studio molto buono in città vecchia ho trovato investitori quindi o i finanziatori che hanno in questo momento sono nostri soci quindi si è sviluppato tutto quello che avevo nella mia testa che era questa visione di progetto qui adesso la visione chiaramente mutata nel tempo perché ora è la california la puglia io la vedo nel senso che vedo quello che non solo la forma ipotetica la vivibilità gli arance che ti vedono scherzo però è una terra di networking di aziende interessanti che fanno a livello creativo qualcosa che in italia non si fa e sta riuscendo anche questa cosa perché quello che stiamo facendo ora in questo momento è mettere in connessione queste realtà giovani che fanno games che fanno animazione fumetti film quello che è per creare quella specie di factory o di stretto produttivo insieme come fanno i siri con valli grande quanto mi piace questo discorso lo continuiamo fra abbiamo solo un secondo per dire nico al volo tu hai partecipato a lavori come la ricerca di dori klaus klaus altri film che non posso dire perché non sono riusciti l'anno prossimo ne escono tre per esempio anzi due li posso dire dell'anno prossimo aveva il grinch per universal studios vabbè anche il grigio che dobbiamo andare alla linea pubblicità tre prossimo anno escono un film david movie che è un film su david della bibbia su davide si davide un film americano molto interessante in tutto questo palmarès c'è un nuovo progetto che riguarda invece direttamente nico è la città di taranto in qualche modo i bambini e proprio di questo parleremo alle 8 e 08 quindi restate con noi ora c'è musica e l'informazione del giornale radio bentornati su cittadela radio e studio 100 95 nfmo studio 100 punto it o scaricate l'app di studio 100 e ci vedete ovunque vogliate non siamo in due oggi ma siamo in tre per chi ci guarda ma anche per chi ci ha già ascoltato già sa che è il nostro ospite in studio francesco sì siamo con nicola san marco fumettista che ha collaborato con le principali case di produzione del mondo per progetti li enunciavamo poco prima di andare in pubblicità come alla ricerca di doni piuttosto che claus il grinch e altre robe che usciranno in futuro uno di questi david che sulla storia di davide personaggio biblico padre uno dei padri di israele insomma è come dire tanta roba ma adesso in cantiere per questo giovane che ha scelto di tornare a taranto c'è un nuovo progetto che riguarda anche questa città e si chiama nicopo che cos'è chi è nicopo è un eco pescatore è un bambino di otto anni più o meno che raccoglie plastica in mare nell'isola dei due mari un'isola dei due mari che non a caso due mari è una città vecchia immaginaria o comunque non è autoreferenziale sicuramente però vede quest'isola ecologica di questi eco pescatori bambini che raccolgono i plasticotti che sono delle plastiche rifiuti che hanno preso vita nel mare e anche sulla terra quindi loro raccolgono e riciclano queste plastiche dimostrando e insegnando a chi guarda il cartone animato che il riuso è la migliore delle soluzioni per la per l'ecologia quindi ritornare un po indietro come facciamo i nostri nonni alla fine riutilizzare quello che avevano e rendere green il mondo attraverso il riutilizzo anche la stessa produzione di questo di questa serie animata e cento per cento green perché se noi abbiamo cercato di mantenere l'ecologia al cento per cento dal punto di vista non solo tematico degli episodi ma soprattutto alla produzione effettiva non so se le immagini che vedete bene tutti i set che sono gli sfondi di questo cartone animato sono interamente realizzati con rifiuti quindi grazie alla collaborazione con rexel che un centro smistamento di taranto è una delle società del gruppo di cui facciamo parte anche noi riusciamo a selezionare un po alla supermercato maniera tutti i colori delle plastiche le cose differenti che ci piacciono per poter assemblare poi e mantenere l'originale forma e struttura della plastica o delle altri materiali che utilizziamo per riciclarli creativi creativamente attraverso i concept che realizziamo per il cartone animato quanto tempo ci vuole per fare tutto questo beh sono tre anni che non lavoriamo al cartone animato sono 26 episodi di cui dieci usciranno entro fine anno quindi si parla veramente di siamo agli sgoccioli della produzione siamo là ci siamo ci siamo e sicuramente andrà su youtube quindi prima di tutto ecco perché la nostra intento del nostro cartone animato anche grazie ai nostri soci che sono i nostri finanziatori hanno sposato l'idea che youtube essendo effettivamente il mezzo più visto dei bambini non è più la televisione come un tempo quando eravamo piccoli noi adesso youtube i bambini guardano h24 youtube e perché non farlo perché non farlo fare attraverso contenuti educativi e comunque qualcosa che possa lasciare una traccia educational appunto 30 secondi quanta taranto c'è in questa indicò c'è comunque parte della mia vita ecco sicuramente e non è autoreferenziale su taranto e sul mondo intero perché la direzione che devo prendere non è su taranto non è sull'italia ma il mondo che deve cambiare visione di l'utilizzo e riciclaggio dei rifiuti in generale tra i protagonisti c'è anche insomma un personaggio a cui tenete entrambi molto io voglio citare lo so che ciccio un paio ci sono i nonni di nico poi nico poi non ha i genitori in questo cartone animato ma ai nonni e abbiamo detto prima siamo cugini anche noi e quindi i nostri nonni sono i nostri nonni con cui siamo cresciuti erano nassari erano pescatori della città vecchia di taranto e quindi c'è quella voglia di riscoprire ecco la taranto che era la vera taranto quella del mare quella delle nasse quella dell'artigianato che che era ecosostenibile perché le nasse nella struttura interamente fatte a mano con giunco che appunto una pianta che veniva seccata e lavorata sono e perfettamente in linea con quello che lo spirito di questo cartone animato e che la nostra azienda benefit inerente a tutto quello che l'ecologia e tutto il resto sposano appieno perfettamente il nostro cartone e poi i nonni perché appunto dicevo prima l'ecologia la facevano prima loro prima di essere green e noi e sentirci innovativi e moderni i nostri non e riciclavano tutto erano loro veramente green che cosa meravigliosa ma non avrebbero mai detto di finire in un cartone animato è vero bellissimo bravo nicola san marco bravi grazie quelli che lavorano a questo progetto siamo circa 40 in tutto questo è importante questo è importante quindi nel mondo 40 persone stanno lavorando siamo 56 qui a taranto e il resto sono online in remoto da diverse parti del mondo davvero 40 persone nel resto del mondo lavorano su un progetto nato qualcosa può cambiare se è il nostro progetto futuro sarà che taranto diventi fulcro principale di queste grandi produzioni internazionali e che tutti e già è così perché da los angeles si chiamano per lavorare qui non è uno scherzo e creare una un indotto silicon valley a taranto in puglia in generale è fattibile sarà così bai ti fiamo per voi grazie grazie mille a nicola san marco per essere stato con noi adesso la pubblicità grazie mille e questo è quanto volevo dirti che non siamo in collegamento video rubino della cia stiamo cercando di metterci in contatto con lui per parlare di siccità e nel frattempo volevo tornare a parlare con te di un tema che è quello diciamo che sta sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali mattarella costretto a rispondere a elon musk ma in realtà il problema grosso principale di cui ti volevo parlare riguarda me tutti si stanno anche risposto a elon musk lascia perdere tutti si stanno disattivando da vecchio twitter esatto perché non lo sa io non riesco neanche a disattivarmi perché ho l'account sospeso e non lo sapevo e come perché non lo so non lo so non lo uso molto devo dire verità da quando è diventato eri è ripassato da twitter a x o la cosa era automatica no era automatica è cambiato solo il nome a x fondamentalmente quindi in realtà non riesco a trovare non ho neanche la gioia di potermi disattivare che vido come hanno fatto ieri per esempio che ero pelù ha ufficializzato la sua uscita da x ha detto è una goccia nell'oceano a maschera non mi fregherà niente però io lo faccio come gesto simbolico oiologico con un significato politico e quindi ha eliminato il suo account io non sono un amante di twitter anche se devo dire che i nostri colleghi giornalisti lo usano tanto twitter perché ci sono esatto ci sono tante informazioni e quindi non ho mai fatto realmente questo passaggio cioè io dovrei andare a recuperare la mia password e vedere che cosa succede sul mio profilo x e guarda che forse se ci vai forse sono sospesa anche io magari chi non lo usa per un po tu non lo so io ho avuto la sensazione in realtà che di essere stato sospeso forse perché c'è stato un momento in cui c'è stato un virus qualcosa che ha chiarato il mio profilo e quindi poi di lì non l'ho più usato per niente c'è non lo usavo già molto oggettivamente però è andata così se c'è un discorso di hackeraggio già un po più preoccupante e sospeso fissato mi chiama zia e andrà così fino alla fine come i rapper antichi però il tuo account è stato sospeso voglio dire ma cosa c'è scritto sotto cioè perché ti dà una spiegazione dopo un'attenta analisi abbiamo stabilito che il tuo account non rispetto alle regole di x ma io sono d'accordo tu quali regole io quando mai ha ragione pertanto potrei continuare a utilizzarlo soltanto in modalità di lettura ciò significa che non potrai più postare o ripostare contenuti ma mettere mi piace né creare nuovi account se ritieni che sia stato commesso un errore da parte nostra puoi fare ricorso ma questo fa ricorso tanto insomma un po di avvocati riconosci fai ricorso credo che sia online ciao masca volevo fare ricorso perché io pretendo di avere nuovamente il mio profilo come si deve sarò sincero non lo so se lo voglio a sto punto è che in realtà volevo solo per potermi disattivare volevi scrivere anche tu su facebook ho disattivato x non l'avrei scritto però volevo però volevo disattivarmi perché diciamoci la verità oggettivamente x è diventato uno strumento di propaganda come dire unilaterale beh sì direi di sia un monocolore e non rosso viene utile no più tendente al nero esatto a tinte nere diciamo molto fosche eh sì molto buie e fosche e quindi va bene insomma vedremo e cercheremo di capire se riesce a disattivarlo tienici aggiornati perché penso che tutti i nostri radioscoltatori e telespettatori stanno lì a pensare ce la farà casula però potreste anche raccontarci voi la fareste questa scelta cioè la vedete come una scelta diciamo politica quella di cancellarvi da un social network in questo caso x che magari è quello che più di altri si espone da questo punto di vista a delle critiche perché appunto ha preso una certa deriva ma anche decidere di cancellarsi totalmente da tutti i social può essere una scelta leggevo ieri o avanti ieri un post di un collega che è maximiliano martucci che mi ha fatto molto riflettere e dava dei dati praticamente sul che cosa significherebbe per per un social network per una piattaforma social se ciascuno di noi restasse fuori per un giorno intero oltre che a un guadagno diciamo di in termini di anidride carbonica di emissioni perché quanto pare anche i post che produciamo crescono ci sono maggiori emissioni se aumentano per esempio i dati che vengono trasferiti quindi un post normale sullo scritto è poco ma in realtà con le foto i video molto di più soprattutto a questo massimiliano collegava anche il numero di persone che a un certo punto utilizzano meno la piattaforma e quindi la possibilità di diffondere meno pubblicità il che significa meno incassi meno fatturati per le grandi le grandi case diciamo grandi nomi come zakenberg o altro devo dire che un'idea di fare un weekend senza social network sinceramente mia mi è ballenata in testa anche whatsapp non whatsapp purtroppo un po con la scusa diciamo che lo usiamo anche per lavoro è vero è anche una scusa un alibi a volte riuscirei forse a farlo meno ma non disdegno di pensarci guarda potremmo pensarci seriamente dei giorni senza social no social e vedere che succede ce la facciamo giorni in cui non lavoro così non ho la scusa di certo devo controllare per va bene e insomma vi abbiamo raccontato anche questa storia x è correlati noi ci fermiamo per ascoltare della musica quando torniamo ancora su buongiorno taranto di buon mattino parliamo di consiglio comunale comparto 32 insomma abbiamo ancora tanti argomenti rimanete con noi bentornati buongiorno questo è buongiorno taranto di buon mattino con marina luzzi francesco casula alessandro labriole piero caffio in regia andiamo adesso a parlare del consiglio comunale che si è tenuto ieri argomento comparto 32 cioè l'edificazione a fini commerciali ma anche abitativi di tutta quella zona che diciamo dalla da parco cimino arriva fino all'ospedale san cataldo è un tema di cui si discuse tanto perché ci sono quelli che dicono basta cementificazione andiamo ad esempio a riscoprire il borgo insomma abbiamo una città che alessandro leo grande definiva tanti anni fa groviera purtroppo lo diventa sempre di più perché ci sono tante zone disabitate e altre invece dove appunto si pensa di cementificare ancora quindi questa è una versione c'è invece chi dice andiamo avanti costruiamo intorno all'ospedale servirà fare tanto serviranno servizi serviranno attività commerciali e tutto il resto quindi su queste due posizioni ieri si sono dati anche battaglia in consiglio comunale sì anche se in realtà poi alla fine la battaglia è stata diciamo improduttiva nel senso che i titoli dei giornali mi guardando esattamente quello la gazzetta titola nulla di fatto il quotidiano parla di fumata nera esatto e insomma sei ore di discusi sei ore di consiglio un consiglio comunale fiume che però alla fine iniziato nella mattina di ieri insomma è proseguito per sei ore di seguito ma non si è arrivati a nessuna conclusione però spiegavamo all'inizio trasmissione perché perché la maggioranza in comune attende il verdetto del consiglio di stato su questa vicenda e quindi probabilmente questo consiglio comunale monotematico arrivato ieri prima su richiesta diciamolo su richiesta delle opposizioni esatto su richiesta delle opposizioni evidentemente non era funzionale per la maggioranza rispetto appunto a quella che è la linea che vogliono che vogliono seguire e quindi non si è deciso sostanzialmente nulla l'assessore all'urbanistica edmondo ruggero ha dichiarato ieri mi domando cosa questo consiglio comunale monotematico aggiunga le considerazioni espresse nei numerosi incontri nelle commissioni a cui io stesso ho partecipato insieme alla direzione urbanistica dal mio punto di vista la richiesta ad oggi non aggiunge assolutamente nulla tra l'altro c'era anche carrer ieri questo archistar francesco carrer famosissimo che sta redigendo il nuovo piano urbanistico generale quindi una nuova città insomma che vedremo come sta immaginando e lui ha espressamente detto ragazzi ragazzi non ho detto così però zia ha detto tenetemi fuori da questa vicenda non è una questione che riguarda me effettivamente più che una questione urbanistica questa è diventata una questione politica ormai è anche una questione politica giustamente chi lavora come ha detto ai lavori dice decidete e poi mi dite ecco insomma questa è la situazione di ieri a palazzo di città secondo consiglio comunale fiume seconda fumata nera per usare parole diciamo utilizzate dai quotidiani vedremo quello di domani in cui sarà votato il nuovo presidente del consiglio comunale legacy insomma il pole position luigi abbate si vediamo se anche tre consigli in una settimana questa settimana se fanno una terza fumata nera è un successone secondo me intanto sono le 8 e 37 noi ci fermiamo per un po di musica e torniamo dopo buongiorno taranto di buon mattino con francesco casulla e marina luzzi insieme fino alle 9 stiamo parlando di informazioni di attualità e adesso ci spostiamo a stat e torniamo a parlare di iab si esatto ne parliamo perché ieri c'è stato un incontro a roma tra sindacati metalmeccanici confederali azienda per provare a capire come potrà finire questa questa storia come sapete la iab è una multinazionale che produce gru in quel distatte ha deciso di delocalizzare nel bolognese sono più di 100 gli operai che lavorano in questa fabbrica e che ovviamente temono per il loro lavoro abbiamo in collegamento con noi pietro cantoro della film cis la buongiorno ben trovato buongiorno buongiorno a voi e tutti i radioscoltatori c'è diciamo un cambiamento che potrete potete definire in qualche modo positivo o uno spiraglio rispetto all'incontro di ieri diciamo che l'incontro di ieri non è stato un incontro facile è stato serrato per nulla scontato e che ha portato comunque degli step perché adesso ci accingiamo a percorrere una strada sulla quale ovviamente vanno stabiliti dei punti quelli di ieri sono stati fondamentali perché innanzitutto c'è stata la condivisione sull'applicazione della legge 234 che poi dovrà dar luogo alla nascita insomma della dello strumento in dotazione della cassa integrazione straordinaria sulla quale chiederemo ovviamente anche un'integrazione degli incentivi perché da sola non basta sostentare il fabbisogno economico già precario di quelle famiglie e cosa più importante abbiamo condiviso nell'allarcazione della 234 la possibilità di riconoscere mi sente? Si dicevo quindi vi state insomma in qualche modo orientando sugli ammortizzatori sociali cominciate a pensare che effettivamente questa azienda se ne vuole andare e se ne andrà? Questa azienda l'ho dichiarato in maniera molto chiara che non ha intenzione di rimanere sul territorio il nostro ovviamente obiettivo è quello di prendere altri 12 mesi di tempo affinché così come è stato anche stabilito ieri l'azienda affidi un advisor per lo scouting di un imprenditore terzo che possa essere interessato a rilevare l'assetto quantomeno anche nell'obiettivo di riconvertire e quindi dare continuità occupazionale alle 100 famiglie ma cosa più importante ieri è stata riuscire ad avere la garanzia nell'applicazione della 234 di poter risarcire tutti questi giorni di assemblea continuata dove non c'erano ovviamente la garanzia degli stipendi e le retribuzioni piene. Continueremo a seguire questa vicenda al volo ci diceva prima per il momento il presidio in fabbrica è sospeso riprenderà all'inizio della prossima settimana solo per ragioni diciamo tecniche? Sì per ragioni produttive per riprendere quelle commesse smaltire quelle commesse e ovviamente ci sono 6-7 barra 8 settimane di lavoro ancora speriamo che ovviamente continui almeno con un minimo produttivo per garantire almeno un minimo di retribuzione oltre alla possibilità di aprire la cassa integrazione. Grazie a Pietro Cantoro della FIMCISL per essere stato con noi torneremo a parlare di IAB molto presto grazie e buon lavoro. Buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Torniamo a parlare di siccità, torniamo a parlare dei danni anche generati al settore dell'agricoltura, lo facciamo con Vito Rubino della CIA Due Mari che è in collegamento con noi. Buongiorno Rubino. Buongiorno e saluto i radioascoltatori. Rubino cosa vi fa dire che questa è una crisi idrica senza precedenti? Lo dicono i dati, lo dicono i dati praticamente dei volumi di acqua che al momento sono presenti negli invasi della Basilicata, si dicono che la diga di San Giuliano della quale siamo con proprietari come Puglia, 50%, ci sono 13 milioni di metri cubi in meno rispetto allo scorso anno, invece Monte Cotugno praticamente la quota di riduzione è di 117 milioni, quindi chiaramente siccome per quanto riguarda Monte Cotugno la diga fornisce anche acqua per uso potabile, non è escluso che se non dovesse piovere o nevicare, perché soprattutto la neve che riesce a far aumentare il livello degli invasi, ci potrebbero essere problemi nel 2025 diciamo. Ecco voi l'avete detto, voi l'avete denunciato... ...a lanciare quest'allarme, perché altrimenti diventa tardi, quindi bisogna già da oggi pensare a quali soluzioni trovare per cercare di affrontare la prossima stagione in rigua. Diversamente quest'anno siamo riusciti a prenderla la situazione per i capelli, ma diversamente se non troviamo delle soluzioni sarà davvero problematico e rischiamo di mettere in ginocchio un settore e tante famiglie che comunque vivono dall'agricoltura in tutta la provincia. Rubino, secondo lei quale può essere una di queste soluzioni? Le soluzioni praticamente sono tantissime. Una per tutte c'è l'acqua del Tara che migliaia e migliaia di litri vanno a finire a mare, si potrebbero utilizzare. Ci sono degli impianti di acqua e refluo nei vari comuni della provincia che potrebbero, con i dovuti accorgimenti, essere immessi nella rite consortile. C'è l'acqua, anche quella va a finire a mare del fiume Bradano e quindi si potrebbe tranquillamente inserire all'interno delle condotte. Ovviamente poi in estrema razio l'utilizzo dell'acqua dei pozzi, perché quest'anno siamo riusciti a salvare la stagione, perché i pozzi sono stati messi in esercizio, alcuni pozzi già presenti, già privellati e quindi hanno aiutato a fornire acqua in tutto il versante occidentale della provincia di Taranto. Chiarissimo, grazie davvero per essere stato con noi a Vito Rubino, direttore di CA Due Mari e ovviamente ci risentiremo per parlare di questo, ma anche delle altre problematiche che attenagliano il primo settore e anche delle possibili soluzioni che state mettendo in campo come il CA Due Mari. Certamente, grazie. Buona giornata. Buona giornata. Insomma Marina, noi siamo arrivati anche alla fine questa mattina, è stato un bel viaggio stamattina. Ne abbiamo fatte di ogni oggi. Carino. Poi quando viene un ospite in studio è sempre un po' più emozionante. Sì, perché rimani in piedi dopo e ti emozioni, capito? Oggi particolarmente emozionante perché insomma c'era questa storia familiare che si intrecciava a una storia bellissima che abbiamo raccontato che è quella di Nicola San Marco, però in generale insomma anche perché poi arrivano qui, si stupiscono, no? Facciamo vedere gli studi. Sai, tante persone in uno studio televisivo non ci sono mai entrate. Che noi ci picchiamo diciamo nei fuori onda. Ah sì, anche di questo si stupiscono, dici? Perché secondo me è un po' sì. A proposito, mi hanno scritto un po' di amici che ci seguono, tipo per esempio su Nicola che mi ha scritto Luca dicendo grande Nicola o in camera mia figlia ha il disegno della principessa Aurora che mi ha fatto in 39 secondi netti. Pensa te, in 39 secondi un disegno. Io ricordo le giornate, i pomeriggi alle scuole medie a provare a fare qualcosa per educazione artistica. Esatto, io non sapevo fare zero col bicchiere. Mamma mia. Non suol dirsi dalle mie parti. Queste cose, educazione tecnica, educazione artistica erano il mio guai. No, io educazione tecnica ero molto bravo. Quando dovevi disegnare, che ne so, il ciclo di una roba. Le proiezioni ortogonali, le mi hai fatte? Mamma mia, forse no, non lo so, non mi ricordo più. Tutto quello che non mi interessa lo rimuovo e il cervello in qualche modo deve anche riuscire a vivere e a sopravvivere. Quindi elimina quello che apparentemente non serve. Magari mi serviranno domande. Io lo facevo, ti ricordi che c'era il foglio con delle forme e le vedevi in tre parti diverse con il riporto delle squadrette accoppiate, no? Sì, 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 no. Ricordo tutte queste cose. No, è vero, è vero. Ricordo il dramma di tutte queste cose qui. Però educazione artistica per me era anche peggio, perché dovevi proprio esercitare la creatività. Ricordo una volta ci dissero disegnate quello che per voi è la primavera di Vivaldi. Cioè tu dovevi ascoltare la primavera di Vivaldi e disegnare. Che cos'era l'artistica, l'educazione artistica? Era l'educazione artistica? No, forse era l'educazione musicale questo, sai? Però univa, insomma, il disegno drammatico. Ovviamente che ho disegnato un intero foglio con un prato. Cioè un prato che partiva dal cielo con delle foglie. A fantasia. Eh lo so, non era facile, insomma. Già non c'è un'educazione alla musica classica. Se poi ti devi unire la musica classica all'educazione artistica, insomma, va bene. Però sono stati begli anni, abbiamo imparato tante cose. Ragazzi, andate a scuola con entusiasmo, perché le imparerete anche voi. E poi come noi le dimenticheremo. Parla per te, entusiasmo io a scuola, quando vai? Sono le 8.56, chiudiamola qua che è meglio, perché stiamo per derivare. Invece torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie a Marina Luzzi, grazie ad Alessandro Labrioli e a Piero Cafio per aver guidato la parte tecnica. Fate bravi! Ma solo se potete.